Amici di Pianews, in corso la campagna di screening al personale docente e al personale ATA in vista della riapertura delle scuole prevista per il 24 settembre. Abbiamo ascoltato le parole del dottor Sellitto, presidente dell'Ordine dei Medici di Avellino, che ha fatto un po' il punto sulla situazione e soprattutto abbiamo parlato anche se ci sono tutte le norme di sicurezza per entrare in classe tranquillamente. Dottore, come procede la campagna di screening sul personale docente e personale ATA in vista della riapertura delle scuole? Beh, è stata un'ottima campagna direi. Ad Avellino c'è stata una risposta notevole dei colleghi perché su 290 circa medici di medicina generale 228 hanno aderito alla campagna. Quindi è stata un'ottima campagna. Tra l'altro anche la risposta degli insegnanti in provincia di Avellino è stata buona perché fino a ieri era facoltativa ma diciamo il 70% degli insegnanti hanno fatto il test. Adesso è diventata obbligatoria, quindi poco fa ho avuto questa comunicazione dal direttore di distretto e continueremo nei prossimi giorni per raggiungere il 100% di questa partecipazione. È problematico rientrare in classe, sicuro è una parola grossa. Si deve rientrare in classe perché non si può fare diversamente. Credo che la scuola sia una cosa fondamentale per la società. Quindi bisogna rientrare in classe, però bisogna prendere tutti gli accorgimenti possibili. Questa è una prima cosa che è stata fatta, quella dei test, ma non credo che sia risolutiva assolutamente, anche perché il test è fatto oggi. Ci dice che una persona nei giorni precedenti non ha avuto contatto col virus, ma non sappiamo da adesso al 24 di settembre che cosa possa succedere. Quindi credo che degli screening ulteriori nel corso dell'anno, casomai anche a campione, però vanno fatti all'interno delle scuole per cercare di raggiungere quelle persone che sono dei portatori, sono asintomatici e che possono diffondere il virus. Quindi bisogna osservare la massima attenzione possibile. Io non ti sdegno l'uso della mascherina. Qualcuno dice che i ragazzi non devono portare la mascherina. L'intervento di ieri dei pediatri ha fatto chiarezza. Non ha alcun rischio portare la mascherina anche in classe. Quindi la mascherina ci vuole, il distanziamento sociale ci vuole. Credo che sia più sicura a questo punto la scuola che la strada, perché i ragazzi che stanno a scuola distanziati con la mascherina in strada stanno insieme senza mascherina. Quindi da questo punto di vista possiamo stare tranquilli. Però bisognerà portare la mascherina. È inutile dire che mia figlia deve portare la mascherina e non la mando a scuola. Queste sono bagianate che è meglio non dire, non propagandare, perché crea confusione nell'opinione pubblica.